Ciao, come vi chiamate? Io sono Siria Savoldelli, ho 18 anni. Io sono Pasini Federica, ho 18 anni. Che classi frequentate? Io faccio lo scientifico, quinto anno, a Alfantoni, in inclusione. Io invece frequento il quinto anno di ragioneria sempre qui a Alfantoni. Abbiamo saputo che siete entrate a far parte dell'associazione Avis. Esattamente. Quanto tempo fa? Allora, io ho fatto gli esami di idoneità alla donazione a luglio, ma la prima donazione l'ho fatta il 4 settembre 2015. Io invece ho fatto l'esame di idoneità alla donazione solamente a gennaio e ho fatto da poco la prima donazione. E com'è stata questa prima donazione? A me è andata bene, io ho donato il sangue intero e il personale mi ha messo un po' a mio agio, perché la prima donazione è un po' spaventa. Bene. Identica cosa a lei, anche io ho donato il sangue intero e per essere stata la prima volta è andata davvero bene. Dove avete donato? Allora, io ho fatto due donazioni, la prima in sede a Bergamo e la seconda una plasmaferesi invece a Clusone. Io ho sempre donato solo a Clusone. E hai pensato anche di fare plasmaferesi? Tu sì, tu pensi anche di fare plasmaferesi? Devo ancora pensarci, però... Ok, e cos'è che ha spinto due ragazze così giovani ad intraprendere questo percorso? A me è sempre piaciuta come cosa, anche perché sia mio papà che mia mamma lo fanno da sempre, lo fanno tuttora. E quindi già da piccola mi sono ripromessa che quando avrei avuto 18 anni avrei donato e infatti è quasi la prima cosa che ho fatto. Io invece l'ho fatto perché era, diciamo, una delle poche cose utili che magari si potevano fare e che non servono. Grazie mille della vostra disponibilità. Grazie a voi. Grazie.